buongiorno miei carissimi amici di investire in borsa a caccia di dividendi oggi torniamo a parlare delle utilities italiane in particolar modo di a2a perché questo settore è stato particolarmente bastonato nel corso dell'anno però ovviamente se i prezzi scendono e i dividendi non vengono tagliati il dividend yield aumenta e adesso siamo su livelli veramente molto molto interessanti e tra l'altro molti di questi utilities stanno subendo un pochino delle trasformazioni in senso positivo lo andremo a vedere in questo video poi mi raccomando passate anche sul canale di mac trader perché anche loro in giornata analizzeranno dal punto di vista tecnico proprio a2a dicevamo delle utilities italiane l'indice fuzzi italia all share utilities quest'anno ha avuto delle perde molto importanti infatti da un massimo di quasi 40.000 punti è sceso a 24.000 per poi però rimbalzare da metà ottobre fino ad oggi a oltre 30.000 punti insomma un rialzo abbastanza sostanzioso di circa il 20 per cento niente male per un rimbalzo di un mese e mezzo neanche ampliando però un pochino il grafico dal punto di vista dell'orizzonte temporale ovvero facendolo passare a 5 anni possiamo vedere come dal minimo del 2018 quando l'indice quotava attorno ai 25.000 punti è arrivato vicino ai 45.000 nel periodo pre covid per poi tornarci nuovamente nel 2021 dopo diciamo il crollo che c'è stato appunto per lo scoppio della pandemia quindi in sostanza da 25.000 a quasi 45.000 è stato quasi un raddoppio dell'indice utilities italiane per poi abbiamo detto quasi dimezzarsi fino a toccare i minimi nell'ottobre di quest'anno insomma una bella volatilità per quello che dovrebbe essere un settore difensivo tra l'altro l'ho detto io nel mio portafoglio amo inserire gli utilities purtroppo questo questa bastonata che c'è stata quest'anno da un lato ha fatto scendere le quotazioni dei prezzi però dall'altro mi ha dato anche possibilità di incrementare determinate posizioni prima di parlare di a2a andiamo a vedere le utilities italiane che sono nel mio portafoglio stiamo parlando di snam che ricopre la posizione più importante rispetto alle altre con un peso del 2,38 per cento nel mio portafoglio il guadagno si è diciamo affievolito e adesso sono in gain del 28 per cento su terna sono un più 117 per cento enel sono un più 6 per cento iren sono sotto del 17 italgas un più 10 per cento acea meno 14 per cento era meno 4,7 per cento poi con piccolissime percentuali o anche a scopiave con un meno 14 per cento e proprio a2a che ricopre solo lo 0,18 per cento di mio portafoglio una quota piccolissima e sono in guadagno dell'8,89 per cento si tratta tutte di azioni che sono perfette per il mio progetto di pensionamento anticipato perché offrono dividendi particolarmente elevati tra l'altro se volete trovate il mio romanzo su amazon pensionato a 50 anni andiamo a vedere quindi cosa sta succedendo ad a2a però mi raccomando un bel like al video l'iscrizione al canale se non l'avete ancora fatto per supportare investire in borsa a caccia di dividendi notizia dell'undice di novembre la trimestrale di a2a ha presentato i conti dei primi nove mesi non sono andati male questi conti dei primi nove mesi i ricavi sono aumentati del 161 per cento però non facciamoci ingannare da questo dato eclatante l'incremento è principalmente dovuto alle dinamiche rialziste dei prezzi delle commodities che hanno caratterizzato il periodo in esame ovviamente più limitato l'aumento del margine operativo lordo che comunque è passato da 955 milioni a 1,15 miliardi di euro con un più 20 per cento il management ha segnalato poiché la contrazione di marginalità registrata dalla business unit mercato è stata più che compensata dai risultati della business unit generazione and trading e ambiente l'utile netto per i primi nove mesi del 2022 è stato di 461 milioni di euro rispetto ai 394 milioni contabilizzati nei primi tre mesi del 2021 ancora l'indebitamento netto di a2a è stato pari a 4,91 miliardi in aumento dai 4,11 di inizio anno quindi insomma un aumento dell'indebitamento abbastanza importante di 800 milioni pari guarda caso agli investimenti netti proprio della società pari a 800,802 milioni ovvero un più 25 per cento chiaramente investimenti che poi andremo ad analizzare proprio fra pochissimo per quanto riguarda le indicazioni finanziarie per l'intero 2022 è previsto un margine operativo lordo tra l'1,45 miliardi e l'1,50 miliardi e l'utile netto ordinario è atteso tra i 340 e i 380 milioni di euro andiamo a vedere alcuni dati su morningstar l'ultimo prezzo rilevato a venerdì è stato di 1,32 euro per azione il minimo di quest'anno è stato di 0,94 e ve lo dico già mi mordo un pochino le mani per non aver comprato un pochino di azioni a 2a quando si era scesi sotto l'euro peccato magari chissà ci saranno altre occasioni poi eventualmente me lo direte nei commenti rapporto prezzo utili è sicuramente interessante 8,76 quando si scende sotto i 10 si accende sempre un pochino una campanellina dividend yield che sfiora il 7 per 100 alle quotazioni attuali l'utile per azione è stato di 12 centesimi per il 2019 e 2020 e 16 centesimi per il 2021 un utile netto che nel 2021 ha avuto comunque una bella esplosione a 504 milioni quest'anno dovrebbe astestarsi abbiamo visto le previsioni attorno a dati in linea con il 2020 il 2020 chiaramente caratterizzato dal covid quest'anno caratterizzato da una dinamica dei prezzi dell'energia molto molto particolare e possiamo vedere anche altri dati come il capitale investito nel corso degli anni è aumentato investimenti sono sempre interessanti come in questo settore perché comunque c'è una transizione ecologica da andare a supportare quindi un orientamento al futuro flussi di cassa positivi nel 2019 nel 2021 2020 no il dividendo è aumentato pure andremo a vedere nello specifico siamo attorno ai 9 centesimi per azione se dovesse essere confermato l'utile visto attualmente potrebbe conquistarci un ulteriore aumento del dividendo anche perché è previsto dal piano finanziario i margini chiaramente se non utilizzi non sono altissimi per niente anzi siamo attorno a 5 roi 13 per cento parlavamo appunto di dividendi bella la politica dei dividendi dal 2012 in avanti da parte di A2A perché ha visto sempre un aumento dai 13 centesimi del 2012 siamo anzi scusate dall'1,3 centesimi per azione del 2012 siamo passati ai 9 centesimi e 0,4 di distribuzione fatta quest'anno quindi insomma una bella crescita chiaramente impossibile dire che possa continuare a questi ritmi tutt'altro e andiamo poi a vedere l'andamento del prezzo è stata praticamente un'obbligazione a 2A in questo periodo in questi ultimi cinque anni con il prezzo che è sempre oscillato tra l'euro e i 2 euro dicevamo della politica dei dividendi l'andiamo a vedere nel aggiornamento del piano strategico 2021-2030 mi piace tra l'altro vedere come il piano strategico sia lunghissima gittata 10 anni è difficile vedere un piano strategico così lungo e chiaramente deve essere aggiornato sono previsti investimenti complessivi pensate di 16 miliardi di euro in questi dieci anni 5 miliardi per l'economia circolare e 11 per la transizione ecologica l'utile netto ordinario è previsto passare dai 400 milioni del 2021 ai quasi 400 del 2022 hai 600 milioni del 2026 e 700 milioni del 2030 quindi con un tasso di crescita annuo medio del 6% con un'utile operazione quindi che dovrebbe arrivare a 22 centesimi per azione nel 2030 dai 13 centesimi per azione nel 2021 c'è un piccolo discostamento dei valori tra quanto dichiarato su soldi online e morningstar però è bello vedere comunque questa crescita A2A inoltre prevede di generare un solido flusso di cassa da impiegare appunto per il finanziamento degli investimenti per quanto riguarda la politica dei dividendi è prevista una crescita annua del dividendo del 3% e io aggiungerei di almeno il 3% perché ultimamente l'ha aumentato anche un pochino di più per quanto riguarda le previsioni, le consensus degli analisti possiamo vedere come su 6 analisti a fronte di un prezzo attuale dell'azione di 1,32 il prezzo obiettivo medio sia di 1,67 quindi con un potenziale rialzo del 26% un obiettivo massimo addirittura di 2,50 mi pare molto ottimista e un prezzo obiettivo minimo di 1,35 euro quindi in linea con i prezzi attuali riassumendo abbiamo 3 analisti che danno rating buy ovvero acquistare e 3 analisti che danno rating hold ovvero tenere ai prezzi attuali personalmente poi non si tratta di consigli per gli acquisti vedo più un hold per A2A magari con la possibilità di vedere un piccolo incremento di valore a fronte ovviamente delle volatilità che ci possono essere durante i mesi però nel caso si tornasse verso l'euro mi riprometto mi riprometto e ditemi adesso non lo faccio di incrementare un pochino la mia posizione perché questo mi pare un dividendo molto molto interessante e io ho troppe poche azioni di A2A direi che con questo video siamo arrivati alla fine spero che sia stato utile per fare le vostre analisi personali se avete qualcosa da aggiungere non dimenticate di scriverlo nei commenti così abbiamo tutti più informazioni a disposizione per oggi abbiamo finito un saluto a tutti da Lorenzo buon dividendo ciao